La dimensione teatrale di Dostoevsky è a mio modesto parere presentissima nei suoi romanzi che nella fattispecie per delitto e castigo sono pieni zeppi di dialoghi, di monologhi interiori, di pochissima parte poi della voce del narratore onnisciente e via dicendo. Anche il narratore, quando precede poco prima il detto del personaggio, non è più un narratore onnisciente che sovrasta e vede dall'alto i suoi personaggi, ma entra immediatamente dentro il pensiero di quello che deve parlare poco dopo. E voi? Come avete fatto a sapere che era un mio articolo? Avevo messo solo l'iniziale. Una pura casualità è successo qualche giorno fa, grazie al redattore, lo conosco e... Sempre a mio avviso lo vedo molto, molto teatrale, oltretutto con un modo di parlare davvero molto vicino al parlato e con un'introspezione così profonda, così articolata che è sempre attuale, anche se parla di Samovara, anche se parla di cose che ormai non sono più presenti nella civiltà di adesso, però quando c'è questo presupposto, diciamo questa verità, poi la vita di Dostoievski ne è testimone, ha frequentato qualunque tipo di ambiente, dall'ambiente più abietto a quello più elitario, dalla prigione forzata fino ai tavoli da gioco di qualche casino, fino all'alta società, fino ai vicoli più disperati. Io me ne immagino sempre con un orecchio grande così, in questo mercato clamoroso di sentimenti e intenzioni, e questa sua capacità di essere spugna e poi di restituire tutto, non così lontano da quello che dovrebbe essere tante volte il lavoro dell'attore. Allora, i personaggi di delitto e castigo appartengono comunque a una polifonia organizzata in maniera magistrale, penso senza scomodare, io poi non sono assolutamente, sono l'ultimo dei tre lavori da questo punto di vista, se si scomoda Bakhtin, l'uso proprio, la sua definizione quasi carnevalesca di qualunque personaggio dostoieschiano, questo essere vivace comunque anche se apparentemente in qualsiasi drammaturgia è un personaggio cosiddetto di servizio, non è mai di servizio in Dostoevsky, così come succede in Shakespeare, anche il becchino più infimo è sempre funzionale, vivace, vitale, con un segno particolare, con una forza, con un peso sulla scena, pazzeschi. Per cui pensare a una gerarchia di preferenza rispetto a un personaggio rispetto a un altro è difficile, certo poi c'è qualcosa che diverte di più rispetto a qualcosa che diverte di meno, ad esempio Svidrigailov lo trovo un personaggio clamoroso, perché nel suo essere abbietto, nel suo essere borderline come personaggio è anche uno in cui, non tanto nei dialoghi quanto nella descrizione del suo pensiero, c'è una tale bassezza anche di pensiero che ci vuole un coraggio enorme per poterlo scrivere, rappresentare ed esprimere e questo per quanto mi riguarda è una delle cose che mi interessano di più, cioè nello svelare quello che può essere indicibile, inconfessabile e renderlo comunque espressivo, e renderlo comunque, virgolette, tollerabile. Dostoevsky non si dimentica mai dello spettacolo, sarà strano dire questa cosa, ma essendo tanta sua produzione prodotta e concepita per puntate sulle riviste, per un fogliettone, eccetera, è un po' anche il meccanismo del cliffhanger, delle serie che vanno tanto di moda adesso, cioè la consapevolezza comunque di un intrattenimento alto con tutto lo spessore di Dostoevsky, quindi da questo punto di vista, secondo me, Dostoevsky è uno dei pochi che ha quadrato il cerchio. Il mio approccio a questo tipo specifico di lavoro, di incisione di un audiolibro, che considero un esercizio altissimo di recitazione, proprio di gioco delle parti, perché, come dirti, ti consente di, ti autorizza ad una solitudine necessaria per avere dentro di te più punti di vista dal quale far partire la tua voce, la tua espressione proprio, considero indispensabile Paolo Girella, e considero indispensabile quindi avere un compagno di giochi, in questo senso, indispensabile è necessario, perché se non trovi quel tipo di sponda, è difficile che tu abbia questo tipo di abbandono, e poi ovviamente sì, lo leggo e anche se l'avevo già letto, me lo rileggo per tenerlo fresco, fresco per la mattina dopo, quindi spesso succede che se nella rilettura, per impegni progressi, non faccio in tempo a leggerlo tutto, io il giorno prima leggo quello che ovviamente vado a leggere il giorno dopo, ma tutto, è bello essere sorpresi, mentre leggi, anzi si deve essere sorpresi, perché se no è tutto già fatto ed è noiosissimo, però al tempo stesso bisogna capire un attimo dove si va a parare a un certo punto. Gli audiolibri vorrei che diventassero sempre di più un accompagnamento quotidiano, un accompagnamento, dico una parola grossa, culturale, un accompagnamento che può essere alternato alla musica, che possa essere usufruito quando fai altro, non solo corsa o bicicletta, anche quando fai altre cose semplicemente, una cosa che ti possa far addormentare, una cosa che ti possa fare svegliare, un'alternativa all'azione di proprio leggere. Insomma, tante volte quando uno dice io sta mattonata, non la leggerò mai, prova a sentirla, magari è meglio.